Riprendiamo, ora salutiamo il primo cittadino di Clusone, Paolo Lini. Buonasera. Buonasera. Ieri sera abbiamo seguito questo interessante consiglio comunale, ogni assessore ha fatto la propria relazione, chiaramente c'è stata anche la relazione del primo cittadino. Siete partiti dal bilancio, per voi la gestione economica è stato un aspetto molto importante in questi anni, giusto? Allora, diciamo che il consiglio del 30 di settembre è sempre un consiglio interessante. La legge ci obbliga, obbliga i comuni a fare entro il 30 settembre la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e la verifica degli stati attuativi di programma. In questo ogni assessore porta la propria relazione e tra le varie relazioni credo che quella che più rende felice me, dia più merito a tutto il gruppo e soprattutto sia qualcosa di particolare e interessante anche per i cittadini all'aspetto economico e di bilancio. Lo stavi accennando tu, l'abbiamo accennato ieri sera, anzi l'abbiamo detto ieri sera, dopo aver trovato una situazione critica e che ci siamo sempre detti dal primo giorno, l'avevamo portata anche nel programma elettorale, una situazione di bilancio per chi come me e altri consiglieri aveva vissuto 10 anni da presente amministrazione, non facciamo polemiche, ma 20 milioni e 400 mila euro di debiti erano un po' tanti. È vero, abbiamo dovuto fare sacrifici, abbiamo dovuto rincorrere quella che per noi è una situazione importante, un amministratore ha l'obbligo, ce lo siamo sempre detti, di avere i conti che tornano. Qualcuno racconta ancora che c'era un pareggio certificato, noi ci siamo trovati a oggi a poter dire ai cittadini di Clusone che da 2.400 euro di debito pro capite, quindi ognuno di noi dalla nostra città ha un debito del genere, oggi siamo arrivati a 1.400 euro. Quindi questo credo che sia la novità importante per la città di Clusone, di poter andare per chi vorrà andare alla prossima scadenza amministrativa, con una situazione economica di bilancio sicuramente più sotto controllo. Di certo non polemizziamo sulle scelte fatte, non andiamo a pensare che questa crisi ci ha influenzato, ma ci ha influenzato tanto, credo che si possa condividere che questi 5 anni siano stati 5 anni di crisi in cui le famiglie, le imprese, le aziende, gli artigiani, tutti quanti hanno dovuto affrontare qualcosa di particolare. Non voglio certo dimenticare, l'abbiamo detto ieri sera, che i trasferimenti dello Stato sono calati in una maniera paurosa e che servivano tanto per i comuni. Il termine del Consiglio Comunale ha fatto una comunicazione importante relativa al progetto della nuova scuola dell'infanzia di Clusone. Sono quindi in arrivo risorse per la fondazione di circa 100.000 euro e poi lei ha mostrato le prime fideiussioni che sono in arrivo per l'operazione, giusto? Credo che dopo tanti anni qualche cittadino inizi un po' a confondersi, a dire come mai, perché, per come. Io per primo penso che potrei essere il sindaco più felice del mondo a vedere l'inizio dei lavori. L'inizio dei lavori, l'abbiamo detto più volte, è stato influenzato da una serie di situazioni, da una serie di passaggi. Diciamo che ne abbiamo viste, ne ho viste di tutti i colori in questi 4 anni e mezzo di mandato per quello che riguarda la scuola dell'infanzia. Qualcuno mi rimprovererà per questa affermazione, ma credo di poter dire che oggi a Clusone una scuola dell'infanzia c'è. I bambini svolgono in un locale idoneo le loro giornate, ma l'obiettivo di questa amministrazione era quello comunque di riuscire a dare anche la nuova scuola dell'infanzia. Abbiamo fatto una serie di passaggi anche quest'anno, la novità che possiamo dire di ieri sera. La fondazione, che sarà la stazione appaltante, definiamola così, per andare a realizzare la nuova scuola dell'infanzia, potrà beneficiare del primo versamento, che ieri è stato fatto, di un importo di 100 mila euro, che dovrebbero essere i soldi necessari per i lavori da svolgere da qui a fine anno. Non potevamo certo introitare i 775 mila euro che erano in scadenza all'altra 30 settembre, perché in maniera responsabile, in modo responsabile, amministrativo, come dicevo prima, voleva dire andare a penalizzare il patto di stabilità poi dall'anno prossimo. Quindi la scadenza è un importo liquido che ha da oggi la fondazione dietro l'indicontazione potrà usufruirne e poi le fideiussioni che sono state messe a garanzia per la realizzazione dell'opera. Anche qui è stata una trattativa lunga, è stata una trattativa influenzata da tantissimi fattori. Non per ultimo ricordo che anche il comparto canossiano è stato venduto dalla nostra parrocchia a un'altra società e quindi ci sono state diverse situazioni. Sono cambiate le volume 3 dei piani integrati, è cambiato l'importo, ma iniziamo a intravedere un po' di speranza. Poi devo dire che 4 anni di entusiasmo su questo tema oggi vengono gestiti da me in maniera un po' più pacata, però mi sa che potremo vedere a breve qualcosa di interessante anche sulla scuola dell'infanzia. Quindi gli importi sono stati rateizzati e adesso è arrivata una prima fideiussione, un'attesa per la fine della settimana e poi per il 15 gennaio 2015 un'altra rate a seguire le altre. Diciamo che questi importi comunque derivano, se lo possiamo rendere in maniera meno burocratese e meno consigliare, ma più popolana. Questi importi derivano dal fatto che il comparto canossiano, il comparto pineta e la zona della Villa Gaia, venivano ristrutturati, dovevano versare degli oneri, questi oneri erano di 4 milioni e 100 mila euro, a oggi riducendo queste volumetrie l'impegno da parte degli attuatori è di versare 3 milioni e 100. Come, quando e perché riversano? Perché? Perché l'amministrazione ha deciso che questo importo deve andare sulla scuola dell'infanzia. Quando li versano? Il 30 di marzo 2015, il 30 settembre 2015, il 30 marzo del 2016 sono le 3 trans necessarie che verranno date alla fondazione, come dicevo prima, previa rendicontazione. Sono sempre soldi pubblici, quindi prima la fondazione ci fa avere dove li ha spesi, noi con 10 giorni di anticipo dobbiamo comunicare questa situazione agli attuatori i quali, in base alle fideiussioni che hanno scadenze prestabilite, liquideranno questi importi. E questo è un po' quello che è emerso ieri sera nel Consiglio Comunale. Tornando indietro alla puntata precedente, un altro argomento importante è quello che riguarda la struttura polifunzionale. Voi avete indicato l'area dove volete che questa venga costruita. E parliamo di quel terreno a sud, del cosiddetto Monte Polenta, il nome reale sarebbe un altro. Si è aperto un po' il dibattito su questa vostra volontà e una delle ultime cose che abbiamo sentito dire anche dalla minoranza è che per fare questa operazione dovrebbe essere prima necessario un passaggio in Consiglio Comunale per modificare il piano di governo del territorio. Cosa ci dice in merito? Ma in maniera simpatica qualche cittadino mi ha detto ma prima volevo nel palazzetto, poi avete deciso di fare un po' il palazzetto, poi non devi farlo qui ma devi farlo là. Insomma accontentiamoci un po' di quello che anche il gruppo di maggioranza prende come decisione. Mi sembra che l'ho ribadito ieri sera, l'ho già detto a qualche consigliere comunale. Chi vuole stare da oggi in campagna elettorale non si avvicina alle nostre finestre perché noi abbiamo del lavoro da fare, ce n'è ancora tante, ci sono ancora tanti temi in questo che è l'ultimo semestre di questa amministrazione. Bene, è stata individuata quella zona là, è stata individuata la zona ma credo di averlo spiegato, di averlo raccontato e di doverlo raccontare ancora da quello che mi chiedi. Perché alla fine riteniamo che non è necessario in questo momento una vera e propria struttura che riesca a soddisfare le esigenze sportive. Le esigenze sportive sono soddisfatte con gli impianti che abbiamo. Possiamo metterci ancora una struttura bene ma questa struttura non deve essere legata solo ed esclusivamente allo sport. Ha bisogno che sia un'attrattiva turistica, ha bisogno che sia un'attrattiva ricreativa per i giovani e che dia spazio comunque a manifestazioni, eventi e quant'altro. Abbiamo la necessità, e ce lo siamo detto ieri sera, comunque di far vivere un centro storico e credo che sia la vicinanza al centro storico uno degli aspetti. Ritengo che continuare a pagare da una quindicina d'anni il parco pubblico di Clusone perché oggi paghiamo per avere il parco pubblico che abbiamo, non introitiamo ma dobbiamo anche spendere dei soldi, una città come la nostra si possa veramente dotare di un parco. e credo che quell'area verde lì, se gestita, arredata, messa a disposizione della popolazione possa essere un polmone verde importante. È vero, mi accorgo anch'io quando risalgo la strada, che quest'area verde è importante ma la struttura che stiamo vedendo oggi sui progetti non è di certo invasiva. Quindi stiamo vedendo una struttura che riusciamo comunque a mettere perché qualcuno mi parla della zona del cimitero, è vero, lì la zona del cimitero diciamo che è di fronte alla caserma dei Carabinieri, così iniziamo a capire che è da questa parte. È dotata di parcheggi, è facilmente raggiungibile viabilisticamente e quindi il fatto di poter pensare che ci possiamo permettere ancora di andare a realizzare un'opera del genere in un momento in cui, l'ho detto prima, o ci livelliamo a pensare che le crisi sono tante, la crisi è tante, che ci sono delle necessità e delle quotidianità e non facciamo polemica anche sul luogo dove fare questa situazione perché altrimenti dovremmo riuscire a ottenere queste risorse che liquidi non ce le daranno mai perché derivano da uno standard, credo di averlo ripetito più di una volta. Non abbiamo la possibilità di ottenere questi soldi altrimenti sarei il primo a metterli a disposizione in un fondo per i giovani, per le imprese, per le tante famiglie che oggi vengono da me, dal mio vice sindaco, assessore Luzzana, a chiedere aiuto per gestire veramente pane quotidiano. Quindi abbiamo un ritorno nella realizzazione di un'opera. Qualcuno segnalava i pratimini, qualcuno segnalava vicino ai campi di calzo. Bene, se fosse solo una questione sportiva può andare, deve andare oltre a essere una struttura strettamente e solamente sportiva. Deve offrire qualcosa di più alla città di Crusone. E rispetto invece alla questione aperta sul piano di governo del territorio? È un'opera pubblica, ci sarà comunque da valutare anche questa situazione, però l'opera pubblica in molti casi supera tante normative. La scelta di fare lì è comunque un qualcosa di interesse pubblico. Quindi che vogliamo fare ancora dei passaggi in commissione, che vogliamo chiedere con certezza che lì sia l'area ideale. Però devo dire che quando si decide di fare un'opera, che è un'opera che interessa a me o interessa a te, ma è un'opera che interessa alla collettività, alcuni passaggi possono essere superati. Da questo argomento ci leghiamo all'ex Mirage. In vista ci sono i lavori che dovrebbero prevedere l'abbattimento della struttura. Ci può aggiornare un po' la situazione? A giorno volentieri la situazione perché oramai non ricordo più gli anni da cui quell'area lì oramai è ferma e tutti quanti pensavamo di sistemarla. Si è riusciti anche lì a lavorare in sinergia con gli imprenditori. A me spiace che ogni tanto qualcuno lanci accuse che magari si poteva fare di più o di meno. Ripeto, tutti siamo a diretto contatto con quella che è la situazione odierna e pensare che gli imprenditori siano stati convinti di operare ancora su Crusone. che realizzino e sistemino un'area. Va bene, quest'area a che punto siamo? Spiace che a breve, quindi nella giornata di giovedì, verrà recintato il parcheggio. Quindi questa è una notizia non piacevole ma è un prezzo da pagare per sistemare l'area. In giovedì? Giovedì stiamo parlando che oggi è mercoledì, stiamo parlando che domani ci dovrebbe essere l'esposizione dei cartelli che iniziano a vietare il parcheggio. Lunedì prossimo, dopo che li ho incontrati nella giornata di ieri, il responsabile di cantiere e chi dovrà fare queste operazioni, si inizierà a togliere quella guaina che copre il paraboloide e da martedì o probabilmente mercoledì, questi sono i dati che ho oggi, se poi succede qualcosa del tempo o se succede qualche imprevisto, io oggi non posso essere un sensitivo, non la so. Però da mercoledì e giovedì il ragno dovrebbe iniziare a mangiucchiare la struttura. Mi auguro che ci possa filmare questa situazione perché viviamo in una parte storica di Crusone e quindi probabilmente potremmo tenersi nell'archivio e chi verrà fra 200 anni si ricorderà che lì c'era un cinema e poi è nato qualcosa d'altro. Ecco, poi in attesa ci sono altri interventi su via Gusmini che aspettano un po' forse che la situazione dell'ex Mirage sia arrivata a buon punto anche per non ingolfare l'area di macchine di movimento, giusto? Aver sistemato, credo, se mi è possibile anche avere ridotto, come dicevo prima, l'esposizione di Vittoria ha permesso comunque di trovare anche risorse per riuscire a fare dei lavori di manutenzione che a breve vedremo sul territorio di Crusone e seppure tante polemiche aveva suscitato questo viale io credo che quotidianamente mi venga detto che lì è una situazione piuttosto pericolosa anche se ho dei consiglieri comunali o delle persone che sostengono il contrario. Io quando ci passo credo che lì sia veramente da metterci mano a quella situazione. Un primo intervento è già stato appaltato, quindi a breve, entro la fine dell'anno dovrebbero essere conclusi i lavori lì anche perché poi tutte le normative che qualcuno fa finta di non conoscere o comunque non c'erano precedentemente vanno a scontrarsi col patto di stabilità, quindi dovremo per forza spendere delle risorse quindi fare dei lavori entro la fine dell'anno e è stato già appaltato, affidati i lavori e quindi a quel punto lì anche sul viale inizieremo a vedere un po' di lavori. E state cercando anche nuovi parcheggi sul territorio anche per sopperire a quella che sarà una necessità che si aprirà da domani in poi? Stiamo cercando, stiamo cercando già da un po' di tempo, credo che, non lo so come definirla però quella idea di dotare la città di Clusone di una piazza, definiamola Manzù, Angelo Mai dove una volta si parcheggiava, mi ricordo che anche in maniera sconnessa, lo dissi già una volta si parcheggiava anche lì, non riuscire nemmeno a portare a disposizione dei cittadini un'area per poter parcheggiare sia un qualcosa che qualcuno ci doveva pensare. A oggi c'è una serie di problematiche sulla gestione del parcheggio, sia andati dai proprietari che poi hanno cambiato, hanno ceduto il parcheggio, poi diciamo ci sono state una serie di passaggi che oggi non ci permettono di poter fare anche solo un'offerta per poter dire va bene il comune di Clusone si mette a disposizione per gestire questa situazione che doveva essere nessuno me lo può negare quello che doveva essere fatto nel momento della realizzazione della piazza Clusone ha portato a caso una piazza enorme, grande, ne parliamo se bella o se brutta ma la necessità di parcheggi per chi sapeva che prima o poi sarebbe partito il piano integrato Miracera quale area poter mettere a disposizione? Si stanno cercando tutti gli angolini di Clusone si sta dialogando, l'ho già detto più di una volta, con un proprietario di un bel prato per poter riuscire a inserire le nostre macchine, le nostre autovetture, diventa un momentino difficile, mi auguro che i cittadini sopportino consiglio a loro che il parcheggio del sole spesso e volentieri è una zona non completamente piena la zona del tribunale è stata resa a righe bianche quindi non è più a righe blu c'è qualche riga blu che devo dire a Clusone è vuota, mi spiace che si paghi il parcheggio ma devo dire che anche sulle righe blu abbiamo cercato di ridurre queste righe blu a oggi a Clusone sono 116 parcheggi blu, permettetemi questi termini chi gestisce oggi la convenzione sa di avere una convenzione che è durata fino a fine 2015 e quindi seppure in ginocchio ho chiesto rivediamola mi hanno detto no abbiamo una convenzione sottoscritta e quindi non posso in questo momento abbandonare la convenzione sottoscritta quindi si continua un po' a lavorare, sappiamo che forse state individuando nuovi parcheggi lungo alcune vie del centro si diciamo, qualche cittadino mi ricorda una decina di parcheggi qui, una decina di parcheggi là qualche cittadino mi ricorda anche, forse perché è un po' più amico che nemico mio che comunque quella è sempre stata un'area privata ad uso pubblico quindi dovremo anche ricordarci che abbiamo sempre avuto la fortuna di utilizzare quella zona del Mirage ne abbiamo sempre beneficiato, a oggi dobbiamo trovare una soluzione qualsiasi spazio riusciamo a individuare vedremo di metterlo a disposizione credo, e mi spiace dirlo per la città di Clusone che la vorrei vedere piena di gente il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì credo che le esigenze siano soprattutto legate al lunedì, giornata di mercato al sabato, nel pomeriggio, negli altri giorni credo che potremo essere in grado di supportare questa mancanza di parcheggi Ok, noi ringraziamo il sindaco di Clusone, Paolo Lini Decoder non termina qui, ma dopo la pubblicità continuiamo con Giordano Tomasone di Castione della Presolana che ha vinto il Giro d'Italia di End Bike Grazie, a tra poco Grazie Grazie